Ok, grande. Sono statunitore che ci sono dovuto venire in bicicletta. Eh, che pazzo che sei. Le due c'è una bici. Ma fra, per un attimo mi stavo per andare via con un altro che era tipo un terreno di milano delle otto e mezza con 190 minuti di ritardo, tipo. E stava passando, però poi... Oh, però non farti allacciare, ti raccomando. Cosa fra? Non farti allacciare. No, infatti, ma sono in giro per quello. Perché stanno a dormire in barca? The most one. Quelli mi dicono perché non farti allacciare. Mi dicono i miei amati, per favore, per favore. E' quello che dovevo fare, sono in giro per quello. Le andamite in quattro posti diversi. Quattro posti diversi, perché stanno a dormire in barca. Però che c'è il luxuri da una parte, capito? Con 33 euro a notte puoi dire di avere una barca tutta tua. Wow, che litio. E non sono in back perché stessa luce. Wow, grande. Ci sarà anche back nell'EP, visto che l'hai citato anche a lui. Ci sarà anche back perché stessa luce. Poche tracce, comunque. Vieni, giusto in E.P. perché devo un attimo martellare, pam. Abbiamo capito bene cosa vuole la gente, anche da casa. Chiedono perché sei latitante. E regà, vedete voi, fra. Quando stavo su striscia, dove ero, ed ero più tranquillo. Ma capisco bene, io invece non dovevo essere all'epoca. Fai due tiri, fra. Ma sì. Giang. Se ce l'avevo trappostavo due. Ah, non ti preoccupa, fra. Anche io sto un po' stente. Grazie. Grazie.